16 dicembre 1770 nasce Ludwig van Beethoven, genio paragonabile a pochi era di origine fiamminga. Contemporaneo di Goethe e Kant, incarna la figura dell'artista e compositore moderno che non teme di mettere in primo piano l'espressione della propria interiorità. Gli slanci di una nuova coscienza emersi dalla rivoluzione francese investono la sua creazione. Gli studiosi lo collocano all'incrocio tra il classicismo di cui rappresenta il culmine e il romanticismo di cui favorisce il risveglio. Esprime in forma musicale un profondo anelito all'armonia tra arte, pensiero e ideali. Nel lunghissimo elenco delle sole principali opere i capolavori delle nove sinfonie, le cui partiture colorano sentimenti, dolore, ribellione contro il destino, rassegnazione, fede nel trionfo del bene e si dispiegano ideali, religiosità, libertà morale, amore del prossimo e della natura, anelito alla gioia. Come nelle più somme manifestazioni estetiche del sublime, Beethoven è perpetuo maestro delle generazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.